I Sernia lavori al quinto settore che consentiranno di trasferire lì in contrada acqua solfuria i bambini della San Pietro Celestino. Inizieranno in tempi ragionevolmente brevi. Nei prossimi giorni l'ufficio comunale preposto procederà all'apertura delle buste recanti le offerte delle ditte partecipanti al bando. Rispetto ai tempi previsti l'iter è in ritardo. La ragione lo slittamento dei tempi per l'acquisizione dei pareri richiesti. Un rallentamento subito dall'assessorato all'edilizia scolastica del comune Pentro che presta peraltro il fianco ad eventuali critiche per i ritardi. Allora la procedura per i lavori al quinto settore va avanti. In questi giorni veremo a sapere quale sarà la società, la ditta, che inizierà i lavori per mettere quindi in pratica il progetto esecutivo. Questo perché abbiamo con una procedura negoziata invitato delle ditte sulla base di caratteristiche specifiche. Parliamo di ditte che sono in possesso della caratteristica OG1 proprio per questi lavori. E in questi giorni quindi apriremo le buste e vedremo quindi la ditta che si aggiudica quindi questi lavori. Ribadisco che sono lavori che vengono svolti essenzialmente all'interno perché già a primo piano abbiamo insomma dei lavori già fatti precedentemente. Poi ci saranno dei lavori quindi giù che insomma richiedono più tempo ma sono lavori interni. Purtroppo sì in ogni procedura, in ogni ite che riguarda lavori ed ili basta poco per far slittare poi tutta la tempistica che sia magari che era volontà dell'amministrazione insomma di concludere subito e quindi appunto di poter aprire queste scuole. Lo slittamento di questo parere ha fatto sì che ha comportato poi lo slittamento quindi di tutto ciò che era necessario fare per questa procedura. Però voglio dire, devo essere sincera, insomma siamo sempre fiduciosi, potrà esserci un mese di ritardo ma insomma la procedura va avanti. Grazie. 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 Grazie.